Salve, sono Michele Nicolai e oggi continueremo l'approfondimento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE Plus 2127 finanziati dal programma della provincia autonoma di Bolzano e in particolare completeremo un po' quelli che sono gli aspetti gestionali andando a approfondire quelle che sono le regole per quanto riguarda la variazione e la chiusura degli interventi. Anche in questo caso l'obiettivo è quello di fornirvi alcune indicazioni per migliorare la capacità di orientarsi sulle disposizioni e in particolare sulle regole di gestione e chiusura degli interventi rafforzando quindi le conoscenze della normativa di riferimento e cercando di fornirvi alcune informazioni che vi possano consentire in qualche modo di prevenire possibili criticità. Andando subito nel dettaglio del contenuto del modulo andiamo a verificare come è possibile gestire eventuali variazioni in corso d'opera dell'operazione. Quindi avete avuto un progetto approvato, abbiamo visto nel modulo precedente come devono essere fatte una serie di comunicazioni per quanto riguarda l'avvio del progetto e delle tempistiche che devono essere rispettate e degli adempimenti, tra questo quello che può succedere è la necessità di richiedere una variazione del partenariato che era costituito con l'accordo scritto. In particolare il beneficiario può chiedere di ridistribuire su altri partner le ore di attività destinate a un partner in caso in cui ci sia un partner che rinuncia al progetto è necessario che venga presentata all'amministrazione una dichiarazione di rinuncia del partner rinunciatario e che ci sia un accordo di partenariato rivisto che dia evidenza della ridistribuzione delle attività e delle ore dei compiti sugli altri partner. È possibile anche sostituire il partner rinunciatario, ovviamente coerentemente con gli obiettivi contenuti e con i destinatari. In questo caso, anche in questo caso, ci deve essere la rinuncia da parte di un partner a continuare a operare all'interno dell'operazione. Il partner che subentra deve farsi carico dei compiti e delle responsabilità del partner rinunciatario e anche in questi casi è necessario che ci sia un accordo di partenariato rivisto che dia evidenza del subentro del nuovo partner con l'indicazione dei compiti e delle responsabilità e dell'eventuale distribuzione delle attività e delle ore che devono essere svolte dal nuovo partner. Vediamo che le variazioni e la struttura ai contenuti dell'operazione ci sono alcuni elementi che possono essere modificati e altri elementi che non sono modificabili. In particolare non è possibile aumentare parametri di durata approvati per l'intervento nel suo complesso tranne della durata pro capite dei percorsi dove questo sia compatibile. Non è possibile per nessun motivo aumentare il costo totale dell'importo pubblico approvato, quello è il finanziamento concesso e quindi anche se ci fossero aumenti dei costi non potrà essere aumentato. Non è possibile modificare il profilo di uscita perché quel percorso era finanziato con determinate finalità e quindi non è possibile cambiarlo, così come non è possibile una modifica della finalità dell'intervento, quell'intervento è stato approvato perché aveva determinate finalità e rispondeva a un avviso, quindi non è possibile modificarlo, non è possibile modificare gli obiettivi dei singoli pacchetti e dei singoli percorsi, non è possibile lo spostamento di ore tra tipologie di attività rivolte direttamente ai destinatari e attività rivolte indirettamente ai destinatari. Se era previsto un progetto con un'attività di formazione e un seminario, non posso cambiare ad esempio la distribuzione delle ore fra queste due tipologie di attività. E infine non è possibile lo spostamento di ore tra tipologie di attività che fanno capo a categorie differite, come per esempio aula, laboratorio o orientamento. Mentre invece ci sono alcune cose che possono essere modificate, in particolare è possibile modificare il monte ore, purché questo non comporti né un aumento di altri parametri di durata approvati, fatta eccezione per la durata pro capite, anche questo nei percorsi dove questo è compatibile, e né un aumento dell'importo pubblico approvato. È impossibile richiedere una riduzione dei parametri di durata approvati per l'intervento, ovviamente questo avrà come conseguenza una riparametrizzazione del finanziamento, quindi una riduzione, se faccio di meno verranno diciamo riconosciute meno risorse, quindi ridotto il finanziamento, ed è possibile lo spostamento di ore tra tipologie di attività che fanno capo alla medesima categoria, per esempio da aula a laboratorio o individualizzata, nella misura massima del 20% della durata approvata per le singole tipologie, e nel rispetto però dei limiti orari o percentuali stabiliti dall'avviso. Quindi se l'avviso prevedeva che su determinate categorie ci fossero delle percentuali minime, ovviamente quelle devono essere sempre soddisfatte, viceversa laddove si rispettano comunque quelle durate minime è possibile agire con questo più o meno 20%. Nel caso di interventi di formazione continua non è possibile apportare variazioni che determinano l'aumento dell'importo di aiuto concesso alle singole imprese, e nel caso di interventi con costo standard ora partecipante, le variazioni che comportano l'aumento del monte ora approvato per l'intervento nel suo complesso non sono ammissibili per i singoli percorsi e per i singoli partecipanti. Nell'altra tipologia di variazioni dobbiamo distinguere se si tratta di percorsi avviati o percorsi non avviati. Se il percorso non è avviato è possibile procedere allo spostamento di ore tra moduli associati anche a percorsi diversi, a patto che tutti i moduli cui sono associati i moduli oggetto di variazione non siano avviati, è possibile richiedere la sostituzione di un modulo con un altro ed è possibile aumentare il numero dei partecipanti di un percorso con riduzione proporzionale di un altro percorso fatto salvo ovviamente il rispetto del numero minimo dei partecipanti che è previsto per l'intervento approvato. Mentre invece nel momento in cui il percorso è avviato ossia già calendarizzata ed eseguita almeno un'attività quindi il giorno successivo a quello da calendario non è possibile variare con aumento o diminuzione la durata pro capita del percorso possiamo soltanto spostare ore tra moduli di percorso non è possibile variare con aumento dei partecipanti previsti. Un'altra opzione che avete a distruzione è quello di rimodulare i percorsi questo è possibile soltanto negli interventi che abbiano una configurazione a pacchetto e una soglia minima attuativa in relazione al numero di partecipanti attivati nei percorsi e deve ricorrere una di queste condizioni. Numero di partecipanti attivi residui minore della soglia minima attuativa d'avviso per esempio abbiamo una soglia minima di partecipanti di 3 partecipanti avviati 5 partecipanti formalmente ritirati 1 partecipanti che hanno superato il limite massimo di assenza disponibile di 2 quindi restano 2 partecipanti è chiaro che in questo caso vado sotto la soglia minima e a questo punto posso chiedere una rimodulazione del percorso. Numero di partecipanti effettivamente presenti alle lezioni minore della soglia minima attuativa per almeno il 30% della durata pro capita del percorso. Anche in questo caso con una soglia minima di 3 una durata pro capita del percorso di 30 ore da 60 minuti partecipanti avviati 5 il 30% della durata pro capita del percorso quindi è pari a 9 ore se abbiamo i partecipanti che erano effettivamente presenti per 9 ore erano soltanto 2 quindi inferiore a 3 anche in questo caso è possibile richiedere una rimodulazione del percorso. Terzo caso il beneficiario ha dovuto annullare tardivamente incontri per una durata maggiore del 40% della durata pro capita del percorso anche in questo caso abbiamo un percorso con una durata pro capita di 30 ore per 60 minuti il 40% della durata pro capita del percorso sono 12 ore abbiamo caratterizzato 6 interventi da 4 ore ciascuno e gli incontri caratterizzati e annullati oltre l'inizio previsto è 4 è chiaro che anche in questo caso diciamo ricadiamo nella casistica e quindi possiamo rimodulare i percorsi. Il beneficiario può chiedere di interrompere il percorso il percorso viene diciamo interrotto e verranno riconosciute le ore pro capita svolte fino all'interruzione e i relativi costi. o meglio l'amministrazione potrà decidere di ridurre a posteriori le ore pro capita previste per il percorso oggetto di richiesta o distribuire le ore non attuate su altri percorsi. Ovviamente tutto questo è soggetto a approvazione da parte dell'amministrazione. Le variazioni finanziarie sono possibili a determinate condizioni in particolare nel caso di operazioni finanziate a costi reali le variazioni finanziarie non possono riguardare un aumento del costo totale approvato un aumento dell'importo pubblico approvato un aumento delle percentuali forfettarie degli altri costi un aumento della percentuale forfettarie dei costi indiretti un aumento dei massimali di spesa previsti dalle disposizioni di avvisi pubblici di riferimento un aumento del costo ora formazione approvato degli spostamenti in diminuzione delle spese dei partecipanti verso altri voci una diminuzione dell'importo pubblico e del costo totale approvato o una diminuzione delle ore approvate per il tutoraggio, la direzione, il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione. Tutte queste casi quindi non possono essere variati sono possibili variazioni di spesa all'interno della stessa macrovoce uguali o inferiori al 10% del preventivo e in questo caso non è necessaria un'autorizzazione se le variazioni rientrano nelle percentuali sopraindicate. Altra variazione che può intervenire in corso di realizzazione del progetto è la necessità di inserire dei nuovi partecipanti. Qui dobbiamo distinguere degli interventi che hanno un numero approvato di partecipanti vincolanti e invece gli interventi che non hanno questo vincolo. Nel caso di interventi con numero approvato di partecipanti vincolanti il beneficiario può inserire nuovi partecipanti solo in caso di ritiro prima dell'avvio o di ritiro in corso di attuazione non è necessario chiedere l'autorizzazione deve rispettare gli adempimenti per individuare e scrivere il destinatario quindi le procedure di selezione e deve rispettare gli obblighi di frequenza se è prevista una soglia minima quindi è possibile fare una sostituzione soltanto laddove il subentrante ha la possibilità comunque di maturare tutte le ore per essere considerato un partecipante valido. Mentre invece laddove non è vincolante il beneficiario anche in questo caso può sempre inserire nuovi partecipanti nel rispetto delle procedure di selezione e nel rispetto degli obblighi di frequenza quindi diciamo la differenza sull'altro caso è che devo verificare quelli che sono gli obblighi di frequenza e quindi la possibilità di maturare le ore minie per essere considerato un partecipante valido. Altra casistica riguarda la possibilità di ritiro dei partecipanti un partecipante ritirato è un partecipante che deve disdire per iscritto la sua partecipazione indicando la motivazione o notificare per iscritto la decadenza di uno o più requisiti di partecipazione e chiaramente nel momento in cui è ritirato non può più prendere parte all'intervento. Se ad esempio stiamo parlando di un intervento dove era richiesto una condizione occupazionale è chiaro che se viene meno quella condizione a quel punto il partecipante si deve ritirare. È obbligatorio entro 30 giorni di calendario dalla data dell'evento che determina il ritiro da parte del beneficiario registrarlo indicando nel sistema informativo indicato il motivo del ritiro. In caso di mancata o tardiva notifica di ritiro o decadenza da parte del beneficiario oltre sette giorni da quelli a cui si è verificato l'evento che ha determinato il ritiro il beneficiario non è tenuto responsabile della mancata registrazione entro il termine previsto. Infine, nel caso di ritiro per rientro nel sistema di istruzione e formazione o rientro nel mercato del lavoro è necessario caricare nel sistema informativo un documento che comprovi appunto il verificarsi della condizione che ha determinato il ritiro. È possibile procedere al ritiro per cancellazione d'ufficio nel caso un partecipante ha accumulato assenze più di 10 giornate di attività di calendario consecutive oppure una partecipazione discontinua ossia prende parte in maniera discontinua alle attività ossia rispetto a 15 giornate consecutive calendarizzate il partecipante risulta assente per più del 50% dell'euro al calendario. In questo caso il beneficiario può contattare formalmente il partecipante per chiedere il motivo dell'assenza se il partecipante non risponde entro 15 giorni di calendario e dà motivazioni sufficienti il beneficiario può cancellare l'ufficio del partecipante dandone comunicazione alla regione inserendo in particolare la cancellazione e allegando la documentazione che comprova la cancellazione nel sistema informativo. Altra casistica è quella di una variazione del numero di partecipanti approvato. Il beneficiario può chiedere di avviare e realizzare un progetto con numero di partecipanti inferiore a quello approvato questo comporta una riparametrizzazione nel caso in cui l'intervento sia finanziato a costi reali e in particolare il finanziamento sarà ridotto in maniera proporzionale rispetto al numero dei partecipanti effettivi rispetto a quello autorizzato. Verrà riparametrato anche nel caso di utilizzo di costo standard in questo caso il costo standard sarà ridotto in maniera proporzionale del peso percentuale del numero di partecipanti ridotto autorizzato sul numero di partecipanti approvato e quindi verrà ridotto il valore del CUS e del costo standard che sarà quindi moltiplicato per la durata progettuale ammessa. Nel caso di interventi finanziati con costo standard formazione continua viene tagliato semplicemente l'importo che deriva dall'applicazione del costo standard ore partecipante al monte ore previsto perché lì si opera con un costo ora allievo e nel caso di costi standard ARC tutte le fasce di tariffa ora formazione pertinenti vengono ridotte nella modalità descritta che abbiamo visto precedentemente le tariffe così risultanti sono quindi moltiplicate per la durata progettuale collegata alle diverse attività questo perché in questa tipologia di costo standard abbiamo diverse tipologie di costo e diversi valori e viene quindi poi tagliato l'importo che deriva dall'applicazione delle componenti ora partecipante al monte ore collegato al numero di partecipanti che non è stato effettivamente avviato. Qualche indicazione per chiudere rispetto alle procedure appunto di chiusura degli interventi va distinta la casistica di interventi con attività calendario preventivo o con attività calendario preventivo o differito in ogni caso la data di conclusione sarà l'ultima data registrata nel calendario è necessario la conferma di chiusura entro cinque giorni dell'intervento entro cinque giorni naturali dall'ultima data registrata nel calendario e non è possibile richiedere la chiusura di un intervento in un momento successivo all'ultima data registrata a calendario quali sono gli adempimenti successivi alla chiusura devono essere scaricati i registri e confermate lo scarico devono essere validati i calendari registrati sul sistema informativo in corso di attuazione devono essere prodotti e inviati all'ufficio FSE gli attestati di frequenza se sono previsti deve essere se previsto inserito e confermato i dati relativi alla soddisfazione dei partecipanti e deve essere compilata e confermata la relazione finale e gli eventuali altri report finali che sono previsti sulla base dei format previsti e il tutto deve avvenire obbligatoriamente entro 60 giorni dalla chiusura dell'intervento è necessario procedere poi alla attestazione finale e qui diciamo va distinto il caso di interventi con soglia minima di frequenza e interventi senza soglia minima di frequenza appunto per poter rilasciare l'attestato l'attestato viene sempre rilasciato tramite il sistema e non sono previste la firma del beneficiario nella firma della direttrice della ripartizione per il rilascio degli attestati finali per quanto riguarda gli interventi con rilevazione della soddisfazione finale dovranno essere appunto come abbiamo detto fornite queste informazioni laddove e chi è previsto un questionario di soddisfazione finale di approfondimento deve essere fatto esclusivamente online sull'apposita piattaforma e i dati devono essere poi importati automaticamente sul sistema informativo mentre invece quando c'è un questionario di soddisfazione finale semplificato viene fatto un questionario cartaceo o comunque extrasistema e anche in questi casi i dati dovranno essere caricati sul sistema informativo relazione finale la relazione finale deve essere presentata sempre e soltanto tramite il sistema informativo di Coemon può essere redatto da qualsiasi utente con privilegio di gestione e di scrittura e può essere confermata soltanto dal legale presentante e ricordo che devono essere allegati a seconda delle attività previste una serie di documenti che sono la scheda di rilevazione degli esiti dei servizi erogati i report consultivi di servizi erogati il report finale di monitoraggio e valutazione il report finale dell'attività seminariale di workshop e la relazione finale sulle attività di partenariato il tutto come abbiamo detto deve essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento bene vi ringrazio per la vostra attenzione abbiamo diciamo richiamato alcuni dei principali adempimenti per quanto riguarda la variazione delle operazioni e la chiusura delle operazioni rimando ovviamente sempre al testo completo delle disposizioni per avere un'indicazione dettagliata di tutti gli adempimenti che devono essere rispettati grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti